Salve sono Cristina Villa della Fondazione Walter Longo e oggi volevamo presentarvi e proporvi un esercizio di respirazione visto che in questo periodo di pandemia si parla molto di respirazione e dell'importanza del respirare bene. Sono esercizi che aiutano sia rilassarsi che ad alzare il livello di energia. Iniziamo, potete stare seduti su una sedia in posizione comoda con la schiena contro lo schienale oppure seduti su un tappeto dentro casa o in giardino se avete un giardino con la posizione a gambe incrociate. La posizione più comoda, dovete tenere la schiena bella dritta e lunga, spalle aperte, cuore aperto. Iniziamo a rilassare un po' il follo alle spalle per poi prepararci alla respirazione. Quindi ispirate ed espirate, abbassate la testa, giratela verso destra, indietro e a sinistra, tre volte da un lato e tre volte dall'altro e potete chiudere gli occhi se volete per rilassarvi ancora di più. quindi poi girate verso sinistra, dietro, destra e in basso, sinistra, dietro, destra e in basso. poi potete ruotare le spalle tre volte indietro per sciogliere le spalle e tre volte in avanti. potete rilassare le mani sulle ginocchia o sulle gambe se siete seduti su una sedia e iniziamo la respirazione. Questo tipo di respirazione si chiama ujjayi o respiro vittorioso o respiro dell'oceano. quindi con la gola dovete creare il suono delle onde dell'oceano o delle onde del mare. Se vi può aiutare anche per rilassarvi visualizzate le onde del mare mentre realizzate questa respirazione. Iniziamo con la bocca aperta. Mettete una mano davanti alla faccia. Immaginate che questa mano sia uno specchio e voi dovete appannare questo specchio. Quindi inspirate ed espirate profondamente con la bocca aperta appannate lo specchio creando nella gola il suono delle onde del mare. inspiro ed espiro, 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 4, inspiro ed espiro, 5. Realizziamo poi questa respirazione con la bocca semi aperta inspiro ed espiro ed espiro dal naso, quindi inspiro, bocca semi aperta ed espiro dal naso, chiudendo la bocca, inspiro ed espiro, creando sempre il suono dell'oceano con la gola. quindi inspiro ed espiro ed espiro ed espiro. Ora chiudiamo la bocca ed inspiriamo ed espiriamo dal naso e create sempre il suono profondo delle onde del mare. per la bocca, quindi inspiro profondo e contate fino a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in piccolo midway definisco ed espiro l'ho perfetta basata su 3 auto e 110 venti di piedi. intanto zanno maximale che ho capito fino a 4 time di giugno per rispiro al otto tollerare 18 saltiamo a pesambria, ovviamente come balle che resta larga di routes. in piccolo st CBD , quindi giudiamo la mancola una calzana lunga我們的 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trattengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed espiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trattengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed espiro lentamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l'ultima volta visualizzate il mare, l'oceano create il suono con l'espiro inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trattengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed espiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rilassatevi rilassate ancora le spalle rilassate la testa controllate come se potete essere il respiro vi ha aiutato a rilasciare tensione ad accrescere l'energia fate questo esercizio la mattina se volete quando vi siete alzati o in qualsiasi momento sentite che si accumula stress e provate a sentire i benefici della respirazione grazie mille e buona giornata grazie mille e buona giornata a